salve bentornati al tg lego sarà un episodio un po particolare oggi perché in coda al video vorrei parlarvi di alcune idee per questo canale vorrei tanto sapere cosa ne pensate se vi piacerebbe fare questi format ovviamente vi ricordo che potete mandare le vostre foto di collezione lego a vitojuvara chiocciola gmail.com cinque immagini il nome che volete sia utilizzato importantissimo stanotte a luna finalmente si torna a ordinare lego oggi è martedì difficilissimo che ce la facciamo per questa settimana dalla prossima dovrebbero arrivare tutti sono tutti bei montaggini di speed champion quindi ci abbiamo possiamo fare diversi montaggi serali e dopo intenzione di fare una recensione della wave delle speed champions lo farò in futuro per tutte quelle che magari prenderò visto che per adesso le recensioni vere di speed champion non ce ne sono mai state fatte tutte insieme secondo me in un modo che ho in mente potrebbe funzionare fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo nel mente continuerò invece a fare negli short a far rollare un po quelle recensioni appena ho un attimo di tempo partiamo oggi intanto da una roba da farvi vedere fondamentalmente il resto sono rumor ma molto interessanti questo è un puzzle puzzle normalismo normalissimo qualcuno ha pensato che fosse una roba più pazza e particolare è un puzzle a tema lego lo trovate già sullo store in calcio al video vi metto il link 19 euro se vi interessa un puzzle perché no sono mille pezzi rumor partiamo dal 75355 che dovrebbe essere l'X-Wing di Luke Skywalker quindi la differenza è che sarà quello di Luke Skywalker quindi ci saranno sicuramente delle minifigure ed altro però di X-Wing siamo già al terzo nella serie UCS l'ultimo non è uscito neanche un milione d'anni fa boh avrei preferito vedere altre cose comunque 1949 pezzi 4 maggio 240 dollari se uno si è perso gli altri comunque è interessante che ci sia speriamo che lo fanno proprio i denti così magari me lo salto rumor 42 159 una Yamaha MT 2022 tornano le Moto Technics primo agosto 250 dollari 1475 pezzi sì eccola qua vi faccio vedere una foto della moto per capire l'ultimo rumor invece è il 21 060 l'Imagi Castle il castello di Imagi giapponese bellissimo 2125 pezzi 160 dollari sempre primo agosto 2125 pezzi stiamo dalle parti del Touch Mall cioè la serie architecture ormai è diventa se ho detto Technics prima no architecture è diventata una roba molto diversa da quello che era in origine stanno uscendo praticamente solo questi set giganti e non più quell'idea del piccolo set dedicato a robe di architettura che erano all'inizio sono anche abbastanza sparite le skyline vediamo se continuano così stanno uscendo uno due pezzi l'anno di queste dimensioni di architetto idee per il format questo purtroppo erano solo i rumor cioè non beh i rumor ma non abbiamo robe annunciate ufficialmente non è uscito molto in questo periodo sfruttiamo l'occasione per parlare insieme dei di format che ho mente il primo farvi del ripilogo di uscite del mese in cui ci andiamo a vedere insieme tutto quello che deve uscire il primo del mese fondamentalmente le uscite di lego sono quasi tutte al primo al massimo qualche volta tipo 4 maggio per la roba star wars o il 5 in generale per altre cose ma diciamo i primi giorni tipo adesso 30 oggi 28 febbraio qualche giorno prima magari ci si andano a vedere tutti i set per per riepilogo di quello che esce il primo del mese e saperlo tipo perché io mi ero scordato per esempio completamente visto che l'annuncio il leak era stato a gennaio mi ero scordato della bat moto che esce stasera magari in futuro quando cresciamo un po di più come community siamo un po statici al momento però è pure vero che di contenuti ne sto facendo pochi quando saremo un po di più magari ci facciamo una bella maratona insieme in cui aspettiamo luna di notte e in cui ci ordiniamo sappiamo tutti dobbiamo ordinare cose magari parliamo di qualche argomento particolare lego ci facciamo una tier list di qualcosa e ne parliamo vi ricordo anche che devo sempre fare ancora la tier list dedicata agli ucs di star wars appena possibile la facciamo in live certamente o qui cioè qui è su twitch contemporaneamente perché finché questa community non cresce i numeri sono troppo bassi quindi non mi va di perdere neanche gli utenti di twitch magari crescendo si può fare anche qualche live direttamente qui un'altra idea di video che non è mia tra l'altro di un mio amico è fare una carrellata io uno scatolone grosso con tutti i set che ho ricevuto in omaggio tipo questa sera spero di riuscire a ottenere sia i monumenti che ho riscattato quelli piccolini sia il furgoncino sono tutti in una scatola li prendiamo ce li guardiamo insieme andiamo a vedere che valore hanno acquisito nel tempo per vedere pure questi regali lego comprati se l'ecoshop se hanno senso aspettarli cercare come stiamo facendo un po tutti perché lego ha intensificato l'uscita di questi set secondo me è un valore aggiunto importante per comprare online l'ultima idea per il momento è quella invece di fare trimestralmente ogni due mesi adesso vediamo un riepilogo di tutti i rumor importanti perché fondamentalmente io ve li porto qua nei digi lego ci sono tutti però tendenzialmente qualcosa me la scordo se non me la segno con un riepilogo andremo a vedere veramente nell'ottica dell'anno tutto quello che sappiamo che esce sappiamo che i leak lego i rumor sono fondamentalmente uscite certe ci andiamo a vedere tutti questi set cerchiamo di capire quando escono e uno si gestisce anche i soldi fatemi sapere cosa ne pensate fatevi pensare se vi piace questa idea mandatemi le vostre collezioni lego spero che abbiate apprezzato il settimo episodio insomma voglio voglio che partecipiate mi facciate sapere esattamente cosa volete vorrei far crescere questa community devo dedicarmi anche io un po di più però vi serve anche un po di contatto vostro ciao a tutti alla prossima